Gioca e vinci con noi! Sono stati quadrati e hanno dato tutto quello che avevano e quando i ragazzi danno tutto quello che hanno il mister è contento, quindi direi di sì. È stata, come dicevo, una partita difficile, potevamo gestire meglio il pallone, siamo stati un po' frenetici soprattutto nel primo tempo, però devo dire che il caldo e la mancanza delle partite ufficiali da tempo me lo ha fatto sì che me lo potessi anche aspettare questa cosa. Sì, purtroppo non abbiamo neanche il tempo di gioire perché già mercoledì abbiamo la partita di Coppa, quella da recuperare, niente, a mercoledì.